ciao a tutti sono Alessio19870 altro gameplay di Resident Evil 8 villager via allora nella parte scorsa ho usato ancora il villaggio sono andato nella segheria sconfiggio un'altra volta la seconda volta quel gorillone poi sono andato nella trale di Ikan fatti fuori tutti poi ho affrontato quel boss quel che era la prima parte del gioco quel martello lo sconfitto preso tesori diamanti il quarto flacon ho preso poi asia mi aveva detto mi aspettare la sua fabbrica messi il flacon in quel che ha quel coso di quel calice di ferro che cazzo è calice gigantico è che ho messo lì sono messo il calice lì si è fatto si è creato un ponte nuovo che collega dal villaggio alla fabbrica di Heisenberg arrivati in colon Heisenberg ha detto vabbè ieteita qualcosa di poter essere un alleato niente solida discussione poi c'è da sotto poi è scivolato Ethan e sbucano fuori uno con le pale di un elicottero che girava non so che cazzo è quello lì l'ho scampata sono entrato in questa fabbrica sono nella fabbrica di Heisenberg qua nel mercato c'è un abito da completare adesso devo prelustare la fabbrica di Heisenberg ecco il mercante allora qua c'è il labirinto non ricordo sì e devo trovare la pallina una svea devo trovare anche se non sarà facile registriamo la fabbrica di Heisenberg c'è degli stronzi del dito con la porta un po' me la sparo oh speriamo questo qua e si apre la porta ecco di coglioni le ponette il cane è un cristallizzato prezioso ok andiamo non è in quella porta lì c'è un diamante ma dopo allora è buio ok andiamo allora peccati di questo no no ponete ok ho preso i tesori scarti scarti per creare qua c'è una cos'è? fluido chimico cos'è questo? che cazzo è questo? boh non lo so sembra un cos'è da GX che cazzo è lo scanner boh ma che stronzi di merda toh diteciò a vederci monete un frigorifero chiuso primaldello cos'è? cos'è? quarzo giallo ok monete monete chi è chiuso? uh c'è un soldato lì eh oggetto scarti da creare ok c'è un trapano in quel braccio sinistro attenzione eh apriamo qua cos'è? stampo per un rilievo torniamo indietro occhio eh oh cazzo si è svegliato oh merda oh e finca se l'ho distrutto colpendo quel pulsante già rosso cuore meccanico ok ok tagliami indietro c'è qualcosa qua o ve la sparo ok ah forse non so dove va con la stampa di rilievo rilievo allora va qua la nuova pisa eh ferro fuso vai rilievo del cavallo rilievo del cavallo ok andiamo oh cazzo ma qua mi cadene la trappa sto coglione primaldello primaldello e si fermano e si fermano allora questo un altro ok facciamoli fuori fanculo fanculo e va fanculo dite ciao arrivederci monete oh guarda quello preso ma quello c'è cinque colori ma quello c'è cinque colori ok peccate di questo dite ciao a vederci monete coppie colori preso ok prendiamo tutti i gananci ok andiamo qua scarti da creare abbiamo la grata ok qui non c'è un cazzo qua chiuso l'altro lato niente andiamo di qua altri soldati col trapano ok o qua l'ho sblocata perfetto allora fonderia e là ci vuole lo esplosivo lancia ganate ok qua mozione fucile qua monete buono qua c'è un oggetto generatore di riserva qua c'è un oggetto allora scendiamo giù monete allora qua c'è una mina non ne faccio un cazzo solo ve la sparo l'abito delle monete attenzione andiamo di qua spariamo questi color sardini ok allora aspetta un attimo qua c'è qualcosa mappa la fabbrica piani inferiori ok polvere a sparo ho messo la mappa oh questo documento dato meccanico soldat il trapano infatti quindi quelle le attore quello che c'hanno a cuore ok questo stampa per una ruota tentata ok non è qua fuori ma qua non c'è niente l'ho sbloccata ok andiamo oh cazzo dominiamolo oh si perfetto come meccanico ci vuole la magno per farli fuori eh ecco qua vai grande ruota tentata può servire sì allora qua può servire dove no non è di qua che cazzo è là indietro no qua aspetta vediamo vediamo è di qua no 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 allora introduttore qua è qua infatti vai ok ok ma va ok come l'illusione come l'illusione che cazzo dici ha costretto ha costretto me tutti noi a essere i suoi figli si ha linciosi in questo villaggio l'abbiamo servita per decenni riesci a capire di che razza di umiliazione sto parlando eh che cosa cosa non sono come i miei fratelli io voglio soltanto liberarmi di quella strunza che parole ho bisogno di essere più potente abbastanza potente da distruggerla quanto questi sono i frutti del mio potere ma va i forti distruccano i deboli è così che va il mondo non avresti mai dovuto rifiutarmi Ethan che squildato è un pirla eccolo non ho mai visto eliminato perfetto come meccanico e la magno conviene perché sono molto tosti qua le punizioni no qua le punizioni no qua c'è le scarate anche qua qua oh polvere a sparo prendiamo ok sali quello si sveglia eh infatti preso in pieno con colpo e di ciò arrivederci guardiamo il carico ci fa qualcosa con solo eh ecco daffanculo va punizioni ok andiamo avanti andiamo avanti faccio gli stronzi eccoli guarda 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 dite ciao guarda guarda perché cinserà ok monete 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 cranio poso monete qua c'è la mia no C'è qualcosa in giro a parte lì No Eh qua devo svegliarlo con un colpo Infatti Dai sfonda col trapano vai E' bravo Oh si, e di ciò di vederci Perfetto Monete, monete Monete, monete, oh quanti soldi Allora, qui C'è un cazzo, andiamo su Ok, attenzione Quel container non mi fido eh Che paneva, va Due trapani non uno Cazzo Ne hai due Vai, vieni qua Oh si, eliminato E di ciò di vederci Quale meccanico prezioso Ok, vediamo come c'è Comunizioni no Vediamo di qua Mi sono fatto il giro Ottimo Ma scusa l'ascensore Ma scusa l'ascensore L'oggetti non ne ho No, 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 no Eragisci Lì c'è un diamante da prendere, ok Quarto giallo, ok C'è, poi ve la sparo No Questo no, attenzione Ok, qua c'è uno stronzo Si, c'è uno stronzo in giro Ecco col trapano Eccolo, ecco, ecco Come ha fatto a sentire Boom Oh Eliminato Poi meccanico prezioso, ok Non c'è niente, ok Allora Ok Vediamo Oh cazzo Con l'elica Via, 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 via E' anche danneggiato Bastardo Apri, apri, apri Eh, non puoi sfondare Scarti per creare Scarti in metà da creare Un po' ve la sparo Ok, andiamocene Mettiamo l'ascensore Per il duca Mica è stato danneggiato lì Allora, non posso fare Usiamo la soluzione evita Ok 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 Ok, non è ancora più in alto Andiamo Manca ancora molto Eh sì Manca ancora molto Apriamo di sopra Un po' ve la sparo E' una fabbrica enorme eh Vada lì E' una fabbrica enorme eh Ok 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 Vedete Ok Vediamo qua dentro No Qua non si passa Miranda ci considera come dei fabbini Eh Non le frega niente Niente Ma va? Non possiede più un briciolo di umanità Devo distruggerla No Ah sì Non mi interessano i tuoi drammi familiari Non mi interessano i tuoi drammi familiari Dei distruggerla Ma sei pazzo Venga di questo E' un minato E' un minato E' questo Panete Bomba artigianale Come le prendo va? Erba verde buono Poi ve la sparo Allora Allora Andiamo di qua Aspetta Spaggiamo Monete Cazzo siete Toh Dite ciao a riederci Cristallo Vabbè guarda questo Toh Fatto fuori Anche tu Monete Monete Cristallo grande Cagno Qua Rimandello Ok fatto tutto Non c'è più niente Non c'è più niente Qua non si può salire No No Non si può salire Porca puttana No Si può salire Corciuto Ma cazzo si fa? Doh Andiamo Andiamo Lancia granate Ok Ok Boh Distrutto il muro Ad acqua Quarto giallo Cristallo grande Smeraldo Per le vivianite Per le vivianite Cristallo grande Ok Poi le ho avanti Niente Che succede? Porca puttana Porca puttana Sa ci hanno cosa? Scarti di metallo da creare E Forse non mi faccio un cazzo Allora Ok Spariamo quei colori qua E uno E due Ci sono altri due da sparare Qua non ci arrivo qua Qua ci arrivo Ok E tre C'è un ventilatore che sta girando Occhio eh Occhio guarda lo sapevo io Qui Sono super colazzati questi Lancia granate Subito Eh si Lancia granate a go go qua eh Attenzione A meno che lo spavano le gambe Per cui Eh guarda Minchia Minchia sono Minchia sono Tosti eh Eliminato Perfetto E diciamo a rivederci Con il metallico prezioso Eccolo Preso Eliminato Diciamo a rivederci Ok Quindi non mai Non lanci A granate Sennò E' un casino A farli fuori Ne manca uno qua Artiscali a creare No Inizioni no C'è un cazzo Di là Porca puttana Devo andare di sopra Ancora Ancora Ah quale ho Eh quale ho sparato il colore Eccolo Ok Ok Oh si surriscalda E' invocato Ecco si ferma l'elica Un po' il ventilatore Come cazzo è Nonete Ok Ok Unete Prendiamo Ok Andiamo Avanti Qua qua c'è Un documento Vediamo Soldatgete Quello che avevo fatto prima Panzer Quanto forte esplosione Cioè lancia granate ci voglio E la cosa è l'altra La La bomba artigianale Ok Qua Fluido chimico Buono Mappa della fabbrica Piani superiori Condotto di ventilazione Andiamo Eh apriamo qua C'è un passaggio segreto Ok 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 Polvera sparo Qui non c'è niente No Aspetta C'è qualcosa C'è questa Ah la valigia Stampa per una sfera E' questa Cercavo questa Ok Ok Poi Munizioni No Ok Torniamo indietro Andiamo Ok Eh attenzione Ci vuole il fucile a salto questo WCX Ecco Vediamo già il peggio La non può attraversare Com'è possibile Vai Eccolo Vettiatore Colpito Che curo Su riscaldo Va Boom Che lancio Col ventilatore Col ventilatore Cazzo Ci ha cambiato poco Eh sì Ok Quarto giallo Scatti per creare Scatti di metallo da creare Ok Ok Qua non c'è più niente No Allora Andiamo alla roce Il ventilatore è saltato via Qua non si passa No Lì non si passa No 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 Faccio il percorso fino alla scaletta La porta E la portina La porta Vai Ok Ok Fluido chimico Buono Mi sono salvato qui eh Ascensore Prendiamolo Poi sono l'idea della schiena Inizierà la cerimonia con la tua cara rosa Eh A quel punto Sarà la fine Per tua figlia E per tutto il villaggio Ma non prego Comparti La fermirò Userò rosa Per uccidere Miranda Eh Povero papà Sei l'unico Non avrà ancora capito quanto è potente tua figlia Vuoi prendere rosa? Devi solo trovarci Mica è una guerra Assurdo Apriamo Vuoto Un'altra 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 Stampo per una chiave Eccola qua Due stampi devo fare La sfera e la chiave Ok Vediamo Ancora Ancora sì Allora Qua scivola chi ha questa porta qua Funzione esplosiva No Qua devo andare Ma come cazzo si fa ad andare qui? Qua c'è la zipline a usare fino ad... C'è come cazzo si fa? Boh intanto attiviamo l'ascensore qua. Allora cos'è questo? Deposito. Ok, torniamo al quarto piano sotterraneo. Questo è il primo piano sotterraneo. Ecco il buca. Ok, quarto piano sotterraneo. Ok, aspettiamo che arrivi a destinazione. Ok, andiamo a fare, cos'è questo? Materiale. S3 non so cos'era. Boh. E' buio. E' buio? Eh, attenzione! E' buio. Eh? Cos'è? No, vaffanculo. Allora andiamo a fare le due stampe. Quello? C'è granate. Ah! E' un po' con il trapano. Ok. Beccati questo! E diciamo di vederci. Uh! Tre granate per farlo fuori. Ok. Ok. Ok, allora. Andiamo a fare. Cazzo! Ok. Ho fatto fuori! Doveva fottermi! Invece ti ho fottuto io. Con il meccanico, ok. No, stampa. Prima la... La sfera. E il soggetto doveva finire. Sfera con cavallo. E il soggetto doveva finire. Dove c'è quell'avvento... Dove c'è il vicino ascensore del Duca. Allora. Stampiamo la chiave. Chiave di Heisenberg. Ottimo per aprire quelle due porte. Qua. La prima è qua, subito. E quella altra mi sembra di sopra. Ma... Prima apriamo questa porta. Poi... Compliciamo l'abirinto. Poi andiamo... Di sopra, ma non apri quella porta di sopra. Quella dov'è? No? Adesso sta questa. Non apri questa porta. Mi fermo. Qui c'è salvo. E termino questa parte. La prossima parte andiamo in quella porta lì. La usiamo qua. Chiari Heisenberg. Ma prima di tornare indietro della coso. Quella... La porta chiusa devo andare. Dove... Ho trovato la prima stampa del coso. Ok. Ma poi sti coglioni. Ok. Dite ciao a rivederci. Monete. 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 Ove la sparo. Scate per creare. Monete. Scate per creare. Allora. Apriamo. Monete. Buono. Perfetto. Adesso andiamo. Fuori. Ok. Devo andare. Con la stanza. Dove c'è il... Dove ho aperto il frigorifero. Allora. Dove cazzo sta? Interruttore. Qua. C'è quel interruttore. Eh. Qua. Poi ritorniamo indietro dove ho detto prima. L'abininto è sopra. Allora. Troviamo sta zona. Grimardello. Buono. C'è un cadavere. Ma oltre al mio figlio. Eh. Sapevoli. Guarda. Guarda. Lo trapano. E di ciò. Arrivederci. Fuori meccanico. Ok. Pistola. No. Monete. Interagisci. Vediamo cos'è. Solo quell'altra volta. Allora. Vai. Ilario Medico. Operazione di revitalizzazione. Questo è il diciottesimo tentativo. Il soggetto è Oscar. Stagliere. Bent'anni. È caduto nel voto ad obbriaco. Il corpo è in buone convinzioni. Eiseberg. Incisione del torace è completata. Ora bisogna rimuovere il cuore e organizzare. E inserire il dispositivo di controllo. Eccedente. Il cadu sta aderendo al sistema del pulsare. Il procedimento è diventato più rapido. Aumentare la quantità di metemalbumina nel sangue artificiale è stata una buona idea. Ora trasmetto una corrente di 6.600 volt attraverso il tronco e il città. Minchia. Stavolta deve funzionare. Eh sì. Sì. Ah ah ah. Grandioso. La mia creazione. Finalmente. Eh. Quella stronta avrà ciò che si mette. Eh ah 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 ah. Ah ah ah. Ah ah ah. Fine registrazione. Cosa cazzo ha creato? Ah 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 ah. Non lo so. Se è quello. Quello lì. Se è quello lì. Ho incrociato prima. Quello lì. Con le pale che si gira. Che gira no? L'uomo con le pale. Con le eliche. Allora. Adesso torniamo. Pi' dietro. Ok. Qua. Buio. Allora. Adesso. Questo qua. Mica si è colazzato questo. Porca miseria. Lancia granate. Mi ha rotto l'arma. Guarda quant'arma tua che ti ho rompere. Ti devo rompere. Mica si è colazzato questo. Cazzo. No. Cazzo. Mica si è colazzatissimo. Cazzo. Oh sì. Che dici a rivelerci. Coglione. Cuore meccanico perfetto. Mica. 10 granate per farlo fuori. Anche 20. Andiamo avanti. Cioè torniamo in dito. Allora. Stavolta. Qua. No. Devo tornare. Qua. Sì. La duca. Andiamo 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 andiamo. Un altro super colazzato. Oh. Rompiamo tutto. Sì ma. C'è due tra. C'è due trappoli. Non uno eh. Danno adesso un po' più potente sto coglione. Non uno eh. Ok. Cazzo. Cazzo. Premi. Cazzo. Oh sì. Dici a rivelerci. Coglione. Cuore meccanico perfetto. Un altro. Dici a com'era. Erano corazzatissimi questi eh. Mennomai che avevo il lancio a granate. Uno a decine di colpi o venti di qua e fuori. Cacca puttana. Qua ha spaccato il muro. Ok. Sollevo il labirinto qua. Allora. Dov'è? Sfera con cavallo. Eccolo qua. Comprensiamo questo labirinto che è molto difficile eh. Rispetto a quelli che ho fatto prima. C'è quelli che ho fatto nelle parti scorse. Allora. Vai. Ok. No. No 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 no. Attenzione. Eh. Questo è difficile. Vai. Nooo. Cazzo. Questo è di... Eh porca puttana. Questo è difficile. Qua è semplice. Da qua fino a poi... Fino a poi la caduta lì. Vai. Nooo. Minchia se mi muore. Sto l'abirinto di merda. Allora. Qua non devo sbagliare. Vai. Ma come fa a cadere? Dai. Ma come cazzo si fa? Allora. Vai. Ok. 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 Perfetto. Perfetto. No. No. Oh. Vai. Perfetto. No. Oh. Cazzo. Non devo cadere. No. Minchia. Rimani qua. Rimani qua. Adesso. 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 Vai. Perfetto. Aspetta. Non cadere. Non cadere l'ultimo. Eh qua non è... Qua è semplicissimo da fare. Vai. Perfetto. Ce l'ho fatta. Manca poco. Vai. 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 Ormai è fatta. Ormai è fatta. Ce l'ho fatta. Coriandoli. Fuochi artificio. Sì. Dai. Quarto abitato completato. Teschio bistro. Dorato. Bello. Mi piace quello rosso del castello dimitresco. E' difficile questo abitato. Perché sopra lì. E' cazzo. C'è difficile questo abitato. No. E' un altro aspetto pieno. Questa era materiali. Dove la mappa lo ha fornato. O più andare al piano piano. Eh qua. Materiali. Produzione. E. Più piano. Materiali. Produzione. E. E. Cosa manca? Materiali. Produzione. E. Deposito. Ok. Boh. Allora. Qua c'è la innessione. Qua c'è la chiave di Heisenberg. Allora. No. Dico. Salviamo. La partita. Allora. Ok. Salviamo. Qua. Ok. Boh. Boh. e questa parte finisce qua, appena ho usato la fabbrica di Heisenberg, manca solamente quel pezzo lì, c'era la porta lì da fare, perché ancora non so quello lì con le palle, dove cazzo è fabbrica prelustata cari Heisenberg, la sfera quarto abilito completato oh mi manca da trovare quello lì con le pale che girano, e Heisenberg e poi abbiamo pensato a Madre Miranda poi la prossima parte andiamo con la porta lì che non ho ancora aperto vedete che succede, ok? poi vediamo boom mi fermo qui e quindi vi dico che finisce qui il gameplay di Resident Evil 8 Village quindi un ciao da Alessio19 870 al prossimo gameplay ok? ok Grazie a tutti.